Parallels Desktop è la soluzione numero uno degli utenti Mac per eseguire Windows su Mac. Esecuzione senza difficoltà delle applicazioni Windows. Decidi tu il modo in cui vuoi visualizzare Windows. Utilizza le applicazioni Windows e Mac in parallelo. Parallels Desktop è lineare e veloce, senza riavvio. Condividi file e cartelle. Scorri. Copia e incolla immagini e testo. Seleziona e trascina i file. Avvia le applicazioni Windows direttamente dal dock. Iniziare è semplice. Utilizzarlo ancor di più. Rendi Windows operativo in pochi minuti. Ed è supportato anche Bootcamp. Inoltre, puoi usare la Touch Bar con Windows e connettere i tuoi dispositivi USB. Puoi anche stampare da Windows senza eseguire ulteriori configurazioni. Le scorciatoie della tastiera Mac OS funzionano automaticamente in Windows. Se devi eseguire un programma Windows, passare da un PC, sviluppare o testare, giocare o desideri semplicemente la massima flessibilità senza dover riavviare, Parallels Desktop per Mac è la soluzione perfetta. Veloce, potente e semplice. Grazie a tutti. Grazie a tutti.